Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Il luogo dell'incidente nel quale quattro giovani sono morti e due rimasti feriti gravemente sulla strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto, in provincia di Bari, continua a tener banco la questione del terribile incidente stradale di Bitonto in cui, poche ore fa, hanno perso la vita quattro ragazzi pugliesi. Tommaso Ricci, Floriana Fallacara, Alessandro Viesti e Lucrezia Natale si sono scontrati frontalmente con un'altra auto, sulla statale 231, venendo uccisi sul colpo. Le vittime avevano tra i 16 e i 23 anni e non c'è stato niente da fare per salvarli. L'impatto tra l'Opel Corsa, su cui erano a bordo, e la Renault Scenic, che proveniva in direzione contraria, è stato devastante. Le autorità hanno aperto un'indagine per chiarire le dinamiche dell'incidente e, come riportato da trattinobassocorriere.it, trattinobasso emerge un terribile sospetto sulla causa della tragedia. Stando a quanto emerso dai primi rilievi il guidatore della Opel Ricci avrebbe tentato un passo azzardato finendo sulla corsia in cui viaggiava la Scenic. A quel punto sarebbe stato impossibile evitare il frontale. In quel momento su quel tratto stradale non c'era traffico. I quattro stavano tornando a casa dopo essersi. Firmati da McDonald's. Il conducente della Renault è ricoverato in rianimazione al policlinico di Bari così come la ragazza, seduta accanto a lui, che è stata operata d'urgenza ed è in terapia, intensiva al divenere con importanti fratture.